Il vecchio Dio. Smilzo, un po' curvo, con un abitino di tela che gli sventolava addosso, l'ombrello aperto sulla spalla e il vecchio Panama in mano, il signor Aurelio assavviava ogni giorno per la sua speciosa villeggiatura. Un posto aveva scoperto, un posto che non sarebbe venuto in mente a nessuno e se ne beava tra sé e sé, quando ci pensava, stropicciandosi le manine nervose. Chi sui monti, chi arriva al mare, chi in campagna, lui nelle chiese di Roma. Perché no? Non ci si sta forse freschi più che in un bosco? E in santa pace anche, nei boschi di alberi, qui le colonne delle navate, lì all'ombra delle frondi, qui all'ombra del signore. E come si fa? Si vuol pazienza. Aveva anche lui un tempo, una bella campagna sotto Perugia, ricca di cipressetti densi e lunghesso il canale quell'eleganza di gracili salzi violetti e tanto dolce azzurro d'ombra che dilaga. La magnifica villa con dentro una preziosa raccolta d'oggetti d'arte. Ah, quella poi, invidiato decoro di casa Vetti. Mi restavano le chiese, ora per villeggiare. Eh, come si fa? Si vuol pazienza. Da parecchi anni a Roma non gli era ancora riuscito di visitare tutte le chiese più famose. L'avrebbe fatto quest'anno per villeggiatura. Speranze, illusioni, ricchezza e tante altre belle cose aveva perduto il signor Aurelio lungo il cammino della vita. Gli era solo rimasta la fede in Dio, che era, tra il buio angoscioso della rovinata esistenza, come un lanternino. Un lanternino che egli andando così curvo riparava alla meglio, con trepida cura dal gelido soffio degli ultimi disinganni. Errava come sperduto in mezzo al rimescolio della vita. E nessuno più si curava di lui. Non importa, Dio mi vede, si esortava in cuor suo. E ne era proprio sicuro di questo il signor Aurelio, che Dio lo vedeva per quel suo lanternino, tanto sicuro che il pensiero della prossima fine, nonché scomentarlo, lo confortava. Le strade sotto il cocente sole erano quasi deserte. Tuttavia per lui c'era sempre qualcuno, un monnellaccio, un vetturino di stazione, che vedendolo passare col lucido cranio scoperto, la barbetta lieve tremolante sul mento e la zazzeretta grigia, tremolante anch'essa sulla nuca e lanciava qualche lazzo. Guarda, due barbette, una davanti e l'altra dietro. Ma il cappello in capo d'estate il signor Aurelio non lo poteva sopportare. Sorrideva anche lui al lazzo e affrettava, quasi senza volerlo, quei suoi passettini da pernice per levare la tentazione ed un altro lazzo a quegli oziosi. E come si fa? Ci vuol pazienza. Entrando nella chiesa designata quel giorno per villeggiatura, voleva prima di tutto goder della giunta, sedere, e traeva un gran respiro, sacciugava il sudore, poi con diligenza ripiegava in quattro il fazzoletto e se lo poneva in capo, così ripiegato per riguardarsi dall'ubida frescura. Qualche rara divota che si voltava appena a spiarlo, vedendolo con quel buffo copricapo, sbuffava tra sé una risatina. Ma il signor Aurelio in quel momento si sentiva beato, respirando quell'umido insaporato d'incenso che stagnava nella solenne vacuità silenziosa dell'interno sacro, né gli nasceva il sospetto che qualcuno pur lì, nella casa di Dio, potesse provare gusto a ridere di Lui. Riposatosi un po', si metteva a esaminare la chiesa pian pianino, come uno che ci abbia da passare la giornata, e ne studiava con amorosa attenzione l'architettura e singole parti. Si fermava davanti a ogni pala d'altare, a ogni opera musiva, a ogni cappella, a ogni monumento funerario e con l'occhio esperto scopriva subito le peculiarità del tempo, della scuola a cui l'opera d'arte doveva ascriversi e se era sincera o deturpata da toppe e rimessi di restauri infelici. Poi tornava a sedere e se in chiesa, come spesso avveniva a quell'ora di quella stagione, non c'era altri che lui, ne approfittava per segnare rapidamente in un modesto tacuino qualche nota, un dubbio da chiarire, le sue impressioni. Soddisfatta così la prima curiosità e adempiuto per quel giorno il compito d'arte che si era prefisso, traeva di tasca qualche libretto da me in lettura, che per la dimensione poteva parere un libro di preghiere, e si metteva a leggere. Di tanto in tanto levava il capo per riassumere o fingersi davanti agli occhi la scena descritta dal poeta. E con quella lettura di libri profani non temeva ad offendere la casa del Signore. Secondo il suo modo di vedere, Dio non poteva aversi a male delle cose belle create dai poeti per innocente delizia degli uomini. Stanco della lettura, si abbandonava con gli occhi fissi nel vuoto, estrofinando a lungo tra loro l'indice e il pollice delle due manine, alle proprie fantasie e ai ricordi degli anni perduti. Talvolta, mentre fantasticava così tutto assorto, gli s'avvistava, da una nicchietta nel pilastro di fronte, qualche busto che pareva se ne stesse lì, affacciato a guardare in chiesa. «Oh!» faceva allora tentennando il capo con un sorriso. «Te beato, amico mio! Si sta bene? Da morti?» Si levava di nuovo per leggere nell'iscrizione funeraria il nome di quel sepolto, poi tornava a sedere e si metteva a conversare con lui mentalmente, guardandolo. «Siamo qua, caro il mio Hieronymus. Peccato che non sia più permesso farsi seppellire in chiesa. Mi farei scavare una bella nicchietta nel pilastro di fronte e, tu di là, io di qua, tutti e due affacciati, sentiresti che belle conversazioncine. Ce l'hai di buon uomo, la faccia, poveretto, e certi guai, perciò mi conteresti. Ma come si fa? Ci vuol pazienza. Mi sembra però che in chiesa ti si debba star meglio da morti. Questo buono d'ordine incenso, emesse prechiere di tutti i giorni, nel Camposanto, se vogliamo dirla, ci piove. La morte però, anche lì nel Camposanto, è una liberazione. quando sulla terra, più che per vivere bene, ci si duri per prepararsi a morire senza paura. Premi, di là il signor Aurelio non se ne attendeva. Gli bastava portarsi di qua, fino all'ultimo passo, la coscienza tranquilla di non aver mai fatto il male per volontà. Conosceva i dubbi tenebrosi accumulati dalla scienza, come tanti nuvoloni sulla luminosa spiegazione che la fede ci dà della morte. Sì, per averne fatta lettura in qualche libro, e sì, per averli quasi respirati nell'aria. E rimpiangeva che il Dio dei suoi giorni, anche per lui, credente, non potesse più essere quello che in sei dì aveva creato il mondo. E se era nel settimo riposato. Quella mattina, entrando in chiesa, era rimasto meravigliato dall'aspetto del sagrestano. Bel vecchio, enormemente barbuto e capelluto, è orgoglioso di quel barbone lanoso e di quella chioma partita nel mezzo e ondulata sulle spalle e nei cernecchi. Bella la testa soltanto. Il corpo tozzo, curvo, cadente. Pareva penasse a sorreggerla con tutto quel volume di peli. Ora il signor Aurelio, riflettendo intorno alla vita e alla morte, considerando amaramente ai meschini profitti dell'anima in questo tanto decantato secolo dei lumi, rivolto quel pensiero al vecchio Dio dell'intatta fede dei padri, a poco a poco si addormentò. E quel vecchio Dio, nel sogno, ecco che gli venne innanzi, curvo, cadente, reggendo a fatica sulle spalle, la testa enormemente barbuta e chiomata del sagrestano della chiesa. Mi sedette accanto e cominciò a sfogarsi con lui, come fanno i vecchietti, seduti sul murello davanti ai gerontocomi. Mali tempi, figlio mio. Vedi come mi son ridotto. Sto qui a guardia delle panche. Di tanto in tanto qualche forestiere. Ma non entra mica per me, sai? Viene a visitargli a freschi antichi e i monumenti. Monterebbe anche sugli altari per vedere meglio le immagini dipinte in qualche pala. Mali tempi, figlio mio. Hai sentito? Hai letto i libri nuovi? Io, Padre Eterno, non ho fatto nulla. Tutto si è fatto da sé, naturalmente, a poco a poco. Non ho creato io, prima la luce, poi il cielo, poi la terra e tutto il resto, come lo avevano insegnato nei tuoi gracili anni. Che che? Non c'entro per nulla io. Le nebulose, capisci? La materia cosmica. E tutto si è fatto da sé. Ti faccio ridere. Uno c'è stato fin anche un certo scienziato il quale ha avuto il coraggio di proclamare che, avendo studiato in tutti i sensi il cielo, non vi aveva trovato neppure una minima traccia dell'esistenza mia. Di un po'. Te lo immagini, questo povero uomo che, armato del suo cannocchiale, s'affannava sul serio a darmi la caccia per i cieli, quando non mi sentiva dentro il suo misero coricino? Ne riderei di cuore. Tanto, tanto, figlio mio, se non vedessi gli uomini far buon viso a si fatte scempiaggini. Ricordo bene, quando io li tenevo tutti in un sacro terrore, parlando loro con la voce dei venti, dei tuoni e dei terremoti. Ora hanno inventato il parafulmine, capisci? E non mi temono più. Si sono spiegati il fenomeno del vento, della pioggia e ogni altro fenomeno. E non si rivolgono più a me per ottenere in grazia qualche cosa. Bisogna che io mi risolva a lasciare la città e mi restringa a fare il padre eterno nelle campagne. Là vivono tuttora, non dico più molte, ma alquante anime ingenue di contadini, per cui non si muove foglia d'albero se io non lo voglia. E sono ancora io che faccio il nuvolo e il sereno. Su, su, andiamo, figliuolo. Anche tu qua ci stai, maluccio, lo vedo. Andiamocene. Andiamocene in campagna, fra la gente timorata, fra la buona gente che lavora. A queste parole il signor Aurelio, nel sogno, sentiva stringersi il cuore, la campagna. Il suo sospiro. La vedeva come se vi fosse. Ne respirava l'aria balsamica. Quando a un tratto si sentì scuotere e, aprendo gli occhi stordito, oppresso di stupore, si vide davanti, vivo e spirante, il padre eterno. Proprio lui, che gli ripeteva ancora. Andiamo, su, andiamo. Ma se è tanto che... barbugliò il signor Aurelio con gli occhi sbarrati, atterrito dalla realtà del suo sogno. Il vecchio segrestano scosse le chiavi. Andiamo. La chiesa si chiude.